Sì, stavo sincronizzando il microfono Iniziamo Oh yes signori, nuovo video compilation su TikTok Partiamo malissimo, un botto di creeper con su scritto girl, ragazza e mi... Ok, l'ho capito, avete capito? Ha fatto la battutina, lui si mette in mezzo a tutte le ragazze che scher... Vabbè, andiamo avanti Nuovo TikTok, nuovo giro, un tipo con dei glass Il coso che fa spawnare il parrot, esatto Perché ho schiocchiato lo dito, con quanto forte ho schiocchiato lo dito, tra l'altro E un macchinario che intrappola il pappagallino nel vetro, carino Vediamo cosa ci fa uscire il nostro amico Crazy Fox Movie No, che figata! Oddio che figo! Stupendo! Sì, pronto VWF? Sì, salve, vorrei denunciare un maltrattamento Sì, le do tutti i dettagli Ok, quanto ho fatto bene questo parco? Oddio! No, vabbè... Non so cosa dire, mi si sta impapinando la lingua Oddio! Il mio cervello! Guardate che figa... E vabbè, basta Cioè, uno dice, vabbè, è finito Qui invece è un fish, i miei occhi I miei occhi, i miei dannatissimi occhi che già ci vedo poco e più se mi fai fare queste cose intrippanti Non ci capisco più niente, però carino, da provare Una volta e basta, però da provare Oh, è finito Ok, hallelujah Allora, vediamo cosa... Ah, sempre Crazy Fox Allora, mi sa che è una compilation sempre di sto tipo Quadruplo Campfire Campfire? Campfire La... La Splash Potion Splash Potion Quella che rende invisibile Un mega taglio che mi ha dato molto fastidio Fatto pure male Doppia porta Cosa ci vai a creare? Cosa ci vai a creare? Ah! Ah! E aha! Despawnano Perché despawnano? Però carino Bravo Questo è... Ah, questo è quello che poi vanno indietro Fanno... Sì, quello lì E poi ti fa vedere il mega coso Cosa avrà creato? Cosa avrà costruito il nostro amico? E' il nostro hombre Oddio, che cos'è? Non capito Ah, sono... Oddio, la coffee... Scrivetemi nei commenti Vi obbligo Da quanto tempo non sentite o vedete Il meme della coffee in dance? Da un'eternità, tipo Vabbè, andiamo avanti Di tipi... Ok, in caso avrò messo le musichine di sottofondo Bello, bravo Cioè, ci vuole un'eternità per fare questa cosa Però, bravo Prossimo, cosa ci vai a creare? Sembra una stupidata Sembra una mega stupidata Che cos'è? Oddio, che cos'è? No, non l'ho capita No No, vi prego Ditemelo Cosa sta succedendo? Amici? Amici? Cosa sta succedendo? Oddio Oddio, non capisco Oddio, non sto capendo niente Non lo so È andata? Video rovinato, distrutto per sempre Perché siamo passati da una porta A un macchinario E alla... Andiamo avanti Scalettino di quarzo Birch trapdoor Che ci va a fare una sorta di bagno Lì lo devi rompere Ah, mette la leva e mette l'acqua Dai Metti la leva e metti l'acqua Yeah, yeah, yeah Lo sapevo fare anch'io Oddio No, che figata il mega parkour con le robe di Windows Windows... Passati cinque minuti Vabbè Three hours later Niente Ho avuto il tempo di fare un figlio Farlo laureare È diventato papà E siamo ancora qui Cioè, immaginate quanto tempo Oddio Vabbè, niente Vado a prendere qualcosa da mangiare Tanto finirà tra tre ore Ve l'avevo detto Oh mio Dio, finisce Sì 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 È finito È finito Mamma È finito Sì Andiamo avanti Doppio armor stand Tre ore che sto masticando Non penso in... Vabbè Doppio armor stand Con l'armatura Con l'altra armatura Blocchi di nera Cosa ci andrà a creare il nostro amico? Cosa ci andrà a creare Di incredibilmente stupido? Lo scopriremo Tra relativamente pochissimo tempo Si spera Vai, sta... Sì, vabbè Una cosa... Cosa sta facendo? Ah, ok Ha messo i cosi Ma che cacchio era? Ma alcuni io non li capisco Non lo so Occorrete voi che me lo scriviate Perché molti Non li capisco Questo qui è una mega... Qualcosa? Ah, tipo un totem? Ok Questo mi sembra molto interessante Beh, ah, bellissimo No, questo... Bellissimo questo Devastante Ora, un altro che ci... Tra l'altro voi Mi sa che non sentite bene la musica Cioè, mi sa che non la sentite Sentite quella che metto io Perché altrimenti BAM! Che mi arriva il copyright Me lo stricano tutto E i miei 10 centesimi a video Le guardano Ah, ancora il coffin dance? Basta! Abbiamo capito che siete molto innamorati Dei tizi Tra l'altro questo ho fatto molto meglio Applausini Che cos'è? Quella cosa lì sulla sinistra Oh mio Dio Che cos'è? Vabbè, comunque qua Cioè, quanto bravi a fare ste cose Bravi Ne pubblicità Allora, vi ho fatto il taglio Perché ci ho messo un botto Ma sta creando tipo un... Un obrobrio E una pubblicità che vogliamo togliere Ma specialmente un obrobrio Che cos'è sta cosa? Cioè, sono schifato Oh mio Dio Oh mio Dio, signore Sono schifato Ora parlerò solo spagnolo Non c'ho voglia Non c'ho voglia No, dai È il coso di prima al contrario No, non ci credo No, mi metto a ridere per una vita Cioè, è... È il coso di prima al contrario Me ne vado Ma dai Ma non è possibile Ma mi sei anche girata la sedia Ma non è possibile È il coso di prima al contrario Ma mi perseguita Ma signori di YouTube Ma stiamo scherziamo No, ti prego Finisci Sì È finito Oddio Ma che chiacchio Vabbè Piccona Oddio Ah, questa è la modalità Quella che... Sì, lo fa... Non so se è già uscito il video o no Comunque È fatto uscire il video In caso andatelo a vedere In caso Aspettatevi che esca Il video nel quale continuano A moltiplicarsi gli oggetti È stato il delirio, signori Ve lo lascio o in descrizione O nel primo commento Oppure dovrà uscire Quindi Ok Sì, abbiamo capito Abbiamo capito Ora ti crasherà Minecraft Guarda che se mini troppo Ti crasherà Va bene Comunque è una figata Quella moda È una figata totale Come sembra una figata totale Queste mini foglioline Oh mio Dio le mini foglioline Quante sono belle No, le voglio in casa Per sempre Vabbè, magari non in casa Sul balcone Però quanto belle E sta facendo una Ah, tipo una palma Ci scommetto qualsiasi cosa È una palma Vai Scommetto 5 euro Sì, è una palma Wuhuu 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 Perché sto esultando così tanto Per una scommessa fatta con me stessa Vabbè, lasciamo perdere Qua Casettina con del terreno Abbastanza scrauso E oh mio Dio Che cos'è Quell'oggetto lì sulla sinistra Fatemelo sapere nei commenti Cosa ci vuoi creare? Mi sembra una cacata totale Tutta Fa schifo Fa totalmente schifo Voto da 1 a 10? Zero Bitch Ma andiamo avanti con un ottavo ploletto Che ci può anche stare Ah Ho capito È tipo il letto Eh esatto Quello delle brinche bassine Il letto delle brinche bassine E ora va a ricoprire tutto Con delle tavolette di cioccolato Perché sì Voi pensate che siano delle traptor Ma no Sono tavolette di cioccolato Però carino Bello così Ma sapete che quasi quasi Me lo faccio nella vanilla No è finito No amici Ma che cacchio Perché c'è War Thunder Stacca stacca la pubblicità Stacca stacca No è finito New Aerobrine versus Pro Aerobrine Ok Dai ci guardiamo un paio di questi Giusto un paio Arriviamo fino al minuto Due Poi stacchia Che cos'è questa cosa Eh Sì Oh 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 Era tipo un mega Cosa sta succedendo Ma cosa sta succedendo Ma che cacchio Vabbè Era un mega Giga Mega Giga Cosa di End Crystal Che figo Che figo Qua cosa c'è crea Se sono ancora i La Vabbè Ok Hai fatto il logo di TikTok Ok Bravo Ok Ho parlato con questa voce Vabbè Prossimo Ok Mi sta laggando il cervello Signori non era il video che laggava Era il nostro cervello che stava laggando E qua è successo qualcosa che mi son perso Quindi nel dubbio GG Cosa sta succedendo Invece C'è venuta una paralisi Boom È svenuto lì in acqua Va bene E ancora questo Cui va indietro E ci fa vedere Che ha fatto Aspetta voglio indovinare Secondo i miei calcoli E le mie stime Approssimative E secondo il sole Che si trova a est Ha fatto Steve Giusto È Steve Non è Steve No No Ah è Mr. Ciao È quello Quello di una notte da leoni Eh sì esatto Sì vabbè La battuta non ha fatto ridere Però sì esatto Vabbè Signori quanto manca Dai ancora L'ultimo Questo è l'ultimo Bello rosso Bellissimo Questo lo so fare E l'ho fatto in un video di TikTok Sì fallo Sì Voglio prendermi i miei meriti Lo so fare anch'io Lo so fare anch'io Ora ci mette una leva E non puoi passarci in mezzo 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 Rezzo Lezzo Quanto veloce Ah è tipo La sua è una prigione Ah ok ok Carino carino Il mio era più figo Era un cancello Oh no Ci ha passato in mezzo Wow Carino Bravo GG Lo sapremmo fare anch'io Dai l'ultimo Questo ultimissimo Acqua in un mare di lava Letteralmente in un mare di lava Cosa ci vai a creare Cosa ci vai a creare Qua se ci esce una struttura Vabbè è una roba non Basta dopo qua Basta Cringe Signori Chiudiamo per sempre Questo era il simbolo del per sempre Il video Spero che questa reaction ad alcuni TikTok Un po' particolarini Alcuni Non li ho capiti Vi sia piaciuto Vi ringrazio per la visione Scrivetemi nei commenti Tutto quello che volete Cosa avete mangiato a cena Cosa bangerete Studierete domani a scuola Tra l'altro Ho già iniziato la scuola No mi sa di no Non lo so Vi ringrazio per la visione Era l'outro più stupido della storia E vi do appuntamento Domani al solito Avevo due un quarto Sì Con un nuovo video Ciao E adesso vado a riguardarmi Il TikTok infinito Tanto ormai Ci ho preso gusto Ciao